Partendo dal discorso di Vasto, mi trovo benissimo da Dio. Io prima della chiamata dei presidenti di Bolami e di Scafetta avevo già altre situazioni e sapevo già dove dovevo andare per iniziare la stagione. Però devo dire che mi hanno convinto dopo 20 secondi che li ho incontrati. Avevo già visto la città, che è meravigliosa, il lungomare, che è meraviglioso. Avevo comunque trovato grande affetto nonostante non fossi ancora l'allenatore della Vastese. Quindi mi trovo da Dio, l'impatto è meraviglioso, la gente è meravigliosa, i tifosi sono meravigliosi. Mi piacerebbe poter regalare un sogno a questi tifosi, alla piazza, e poter lasciare il segno in eterno. Però so anche che da qui a lì passano tanta acqua sotto i ponti. Ho firmato tre anni, insieme ai presidenti abbiamo fatto un progetto. Poi quello che ci aspettiamo quest'anno è quello di costruire una squadra che sappia durare nel tempo, che cambi poco, che magari possa inserire in ogni mercato uno o due giocatori di qualità se serviranno, ma soprattutto quello di dare una vera identità di un calcio che probabilmente può essere anche di categoria superiore e che ogni domenica la squadra vada ad affrontare qualsiasi sia l'avversario con determinazione, voglia, con testa, strategia, con spirito di gruppo ogni gara per poterla vincere. Come vi preparerete durante questa settimana per domenica? Che comunque sarà una partita diversa perché comunque è la prima di campionato. Ma sì, sicuramente sarà diversa, anche perché credo che il Chiedi cambierà qualche giocatore e ha cambiato qualche giocatore in questi giorni. Hanno 15 giorni in più sulle gambe di lavoro rispetto alla Coppa Italia quando avevano sicuramente iniziato il ritardo rispetto a noi alla preparazione. Però dobbiamo prepararla bene sapendo come interpretarla, sapendo che giochiamo in casa, sapendo che abbiamo un pubblico straordinario che in questa categoria è un lusso per tutti eppure questi tifosi ci danno grande spinta, grande carica.